crasher aspettami belle palle prendi questa wow cos'è penso che sia una mappa del tesoro seguiamola ecco un lago ci serve una zattera per arrivare dall'altra parte crasher guarda là ecco questo dovrebbe funzionare ecco una corda per la zattera ottimo lavoro mettila in acqua spingila verso di me bene è molto alta ci servono una corda e un gancio ecco qui ho trovato un gancio lancialo non ha funzionato provo io ecco ecco è il tesoro probabilmente aprilo ci serve una chiave non è qui beh abbiamo fatto tutto per niente cos'è questa è una chiave ecco il forziere cosa pensi ci sia dentro commenta qui sotto ciao vuoi vedere altri video interessanti forse questo oppure questo che ne dici di questo o questo dai scegline uno dai sceglili velocemente prima che scompaiano ciao